Buongiorno a scuola! 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 E' strumento particolare di queste vetture, così come Dario Cerrato. Con loro si sono lanciati nella foto di regno. Vedete come? Colombi! Il peraletto! L'Arcino! Di traversa questa vettura è grande! In casa Ubel, vede suoi veraci! Se dovessimo scudere le laterali, qualche manifestazione, di campionati, eccetera, come non citare? Ecco il Campoerri, due cose, o anche Walter Rowe, ma tantissimi sono passati da questa vettura! E poi che viene fatta da te! E stavano facendo in casa! Opel, vanta, ci tiene! Con le mani e soprattutto sotto i piedi di Fabrizio Colombo! Opel a scuola 400! Abilano a Pagliano! Peraletto! Che spazio ragazzi! Questo sì che è il divertimento! Che la nostra città è un'attività! Che la nostra città è un'attività! Per avere, come la riferite, per lasciare la loro parte! Anche i copistari stanno vivendo questo momento con ericcio nel migliore dei modi! Allora, noi li ringraziamo per la loro preziosa collaborazione e per il loro operato! E' un'attività! E' un'attività! E' un'attività! E' un'attività! E' una classifica alcuna! Non ci sono, come detto, due o più volte! Colombo e Marietta! E' un'attività che però C'è un'attività che ha vinto! E' un'attività che ha vinto! C'è un'attività che ha vinto! C'è un'attività molto esercitato! Molto proletto che ricordiamo! Comissione di manifestazione! Il segretario di manifestazione! Quindi! Stiamo per assistere agli ultimi giri! Dovete bene in questo momento! Vogliamo per l'avento! Bionda! Bionda! Brionda! Fabrizio Colombi! Opel 30 CD! Ecco! Il Toto! Di Fabrizio Colombi che saluta il Toto! Obel governo! Saludiamo con un applauso questi piatti che ci sono cimentati nella sua patologia limited edition. Siamo a togliere da questo terzo senso stimolato e al momento, come l'oper, vecchi ricordi, a tanzi troversi! Questa manifestazione, guardate che ventoli, guardate che strada in coscia! Scanna! Tutta la marcia! Ecco voi! Sparizzi! Dilotta non si può fare la salvo! Guardate che spazzola a ferro a vetto! Grazie mille! Merci! Diretano i transalpini alla strada e al ricordo che si fa! Sì, è solo una potenza! Poi, non vediamo il male! Poi, non vediamo il male! Ehi... L'acqua! Mentre Parolizio-Colombici, vuoi ricordare ancora una volta che le vetture a trazione posteriori sono divenute celebre! Tra le tante cose!!! Perchè! Donnell! Stato di lì! Che tiene l'estilinio! Se lo sta dimostrando! Un premata si tiene! Ope la strada! Quanto non lo si sta trattando? Non lo aspettando! Per l'avento! Come! Guardate come smanettano! Come! Quanto smerzano! Qui nel piazzale antistase! La fiera! Il centro fiera! Piacciano! Perchè! 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 Perchè!